Sono Silvia Balestro, sono un avvocato e mi occupo di diritto del lavoro e di diritto dell'immigrazione. Nell'ambito del progetto ERIAS, che è promosso da Formaper, vogliamo darvi alcune informazioni in merito alle regole per l'assunzione e per la gestione dei rapporti di lavoro con i lavoratori migranti e in particolare con le persone che provengono da paesi extra UE. Cominciamo quindi a vedere quali sono appunto le regole che disciplinano l'assunzione del lavoratore straniero. Innanzitutto per assumere un lavoratore straniero occorre che questa persona abbia un permesso di soggiorno e abbia un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare. I permessi di soggiorno esistono in varie tipologie. La cosa da verificare innanzitutto o direttamente da parte del datore di lavoro o tramite un consulente del lavoro è che il documento in possesso dello straniero sia valido. I tipi di permesso di soggiorno che consentono di lavorare, come appunto accennavo, sono vari e possono essere per lavoro subordinato, lavoro stagionale, autonomo, per attesa occupazione che significa che quel lavoratore ha perso l'occupazione, diciamo, il rapporto di lavoro che aveva in corso e quindi ha un permesso che gli consente di reperire una nuova occupazione. Il permesso può essere anche per motivi di studio o formazione ed è quindi un permesso che consente allo straniero innanzitutto di studiare. Può lavorare con dei limiti che sono dei limiti di orario settimanale e quindi il rapporto di lavoro non può superare le 20 ore. Il permesso può essere anche per motivi familiari, quindi essere collegato al permesso di soggiorno che ha uno degli altri familiari dello straniero. Può essere di lungo periodo, per asilo politico, per motivi di protezione sussidiaria, residenza elettiva o carta blu. Tutti questi permessi appunto consentono di instaurare un rapporto di lavoro. Perché è importante che lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno? Perché il testo unico in migrazione, che è la normativa che disciplina in via generale appunto il rilascio, il rinnovo del permesso di soggiorno e le regole che disciplinano appunto la presenza dello straniero in Italia, stabilisce che il datore di lavoro che occupa le proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se poi i lavoratori sono più di tre, se sono occupati dei minori in età non lavorativa, se i lavoratori sono sottoposti a condizioni di sfruttamento, da qui il riferimento all'articolo 603 bis del codice penale che punisce il fenomeno che va sotto il nome in gergo di caporalato, le pene sono aumentate. Il datore di lavoro viene condannato altresì in questi casi al pagamento del costo che lo Stato deve, diciamo, sobbarcarsi per il rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Quindi è importante appunto che non si instauri un rapporto di lavoro se non c'è il permesso di soggiorno, anche perché un rapporto di questo genere non sarebbe neppure un rapporto regolarizzato, nel senso che sarebbe un rapporto, come si definisce, in nero, il che appunto oltre a costituire un reato in questo caso rappresenta anche una violazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro più in generale. Cosa succede se il lavoratore si trova all'estero? Ovviamente un lavoratore che si trova all'estero non ha il permesso di soggiorno, quindi può essere chiamato a lavorare in Italia, con un procedimento molto complesso, che prevede la richiesta di un nulla osta al Ministero del Lavoro e poi la gestione della procedura allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente e che ha una doppia via, diciamo. Può essere una richiesta nominativa, se il datore di lavoro conosce già il soggetto che vuole assumere, oppure numerica. Se la richiesta è numerica viene fatta in relazione a coloro che nel paese d'origine sono iscritti a delle liste che vengono gestite dalle rappresentanze consolari del paese di provenienza. In questo caso il datore di lavoro deve garantire un rapporto di lavoro che abbia un orario non inferiore a 20 ore settimanali, deve assicurare un alloggio adeguato, impegnarsi anche al pagamento delle spese di viaggio e a comunicare ogni eventuale variazione di questo rapporto di lavoro. Questo non significa che il datore di lavoro può assumere chiunque si trovi all'estero, semplicemente consultando le liste di cui abbiamo detto, oppure chiamando una persona piuttosto che un'altra, perché tutto questo avviene nell'ambito del cosiddetto decreto flussi, che è un decreto che viene pubblicato più o meno annualmente e che riguarda la gestione dei flussi di ingresso dai vari paesi al di fuori dell'Unione Europea e che prevede delle quote numeriche ed è solo all'interno di queste che si può procedere. Quindi sia la chiamata nominativa che quella numerica non consentono un ingresso illimitato, anzi, e ne possono, diciamo, sopperire all'assenza di permesso di soggiorno del lavoratore in Italia. Quello caso può, diciamo, essere sanato solo appunto attraverso quella che viene definita in gergo sanatoria, cioè l'emersione del lavoro irregolare, che presuppone però una normativa specifica. Una volta che il rapporto di lavoro è stato instaurato è ovviamente necessario gestirlo. Cosa significa? Innanzitutto qual è la tipologia contrattuale che può essere scelta? Qualunque. Nel senso che se il lavoratore straniero ha il permesso di soggiorno può essere assunto esattamente come un lavoratore italiano, quindi con un rapporto a tempo indeterminato, con un contratto a termine, con un orario di lavoro part time, un apprendistato, un lavoro a chiamata, un contratto di somministrazione. La cosa importante da tenere presente è che il rapporto di lavoro può essere instaurato anche per un periodo maggiore rispetto alla durata del permesso di soggiorno. E questo perché? Perché il permesso di soggiorno può essere rinnovato. Quindi alla sua scadenza il lavoratore straniero procede al rinnovo. Ovviamente se ha un rapporto di lavoro in corso non ci sono dubbi, salvo ci siano altri problemi che riguardano lo straniero. È quindi quasi certo che possa rinnovare questo permesso. Bisogna tenere presente che la richiesta di rinnovo del permesso può essere presentata da 60 giorni prima della scadenza fino a 60 giorni dopo. E lo straniero, il lavoratore o la lavoratrice potranno presentare la ricevuta della richiesta di rinnovo. Una tipologia particolare di permesso di soggiorno riguarda i richiedenti asilo. Ed è particolare sia per la modalità con cui si ottiene questo tipo di permesso, sia anche per la tipologia di migranti in questo caso. Lo straniero richiedente asilo è lo straniero che ha fatto richiesta di protezione internazionale secondo la normativa specifica che riguarda appunto la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La domanda si presenta a un'apposita commissione territoriale che è l'autorità competente a esaminare in via amministrativa questo tipo di domande. La commissione territoriale esamina lo straniero attraverso una serie di domande che vengono fatte e che riguardano appunto le ragioni per le quali lo straniero ha lasciato il suo paese d'origine e sulla base delle quali chiede il riconoscimento della protezione e anche attraverso l'esame di eventuali documenti. E non sempre ci sono ma che è possibile che lo straniero abbia con sé per esempio, mandati d'arresto, documentazione che dimostra la persecuzione nel paese d'origine. Dopo aver presentato la domanda lo straniero ottiene un primo permesso per la durata di sei mesi. Questo permesso è rinnovabile per tutta la durata della procedura e consente allo straniero di lavorare una volta trascorsi 60 giorni dal rilascio dello stesso documento. Qual è la differenza fra status di rifugiato e protezione sussidiaria che diciamo come categoria generale rientrano nell'ambito dei titolari della protezione internazionale? Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi ha timore di essere perseguitato ovviamente nel paese d'origine per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'opinione politica, all'appartenenza a un determinato gruppo sociale o anche religioso. La protezione sussidiaria invece viene riconosciuta a chi non corre il rischio di persecuzioni così come appunto le abbiamo definite ma è comunque esposto al pericolo di subire un grave danno qualora dovesse essere rimpatriato nel suo paese d'origine o nel paese in cui dimora abitualmente. Sono due definizioni appunto che sono previste dalla normativa e che come ho detto vanno sotto la diciamo la definizione gergale di richiedente asilo o comunque di titolare di protezione internazionale. Se la domanda dello straniero viene accolta appunto gli viene riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e quindi ha il suo permesso di soggiorno. Se invece la domanda viene rigettata questo non significa che lo straniero perde il permesso di soggiorno e quindi se è stato instaurato un rapporto di lavoro con questa persona quel rapporto di lavoro può proseguire perché lo straniero ha la possibilità di impugnare il diniego della commissione e lo può fare attraverso un ricorso al giudice che deve essere depositato entro 30 giorni dal rigetto. Il suo permesso ha quindi viene prorogato per tutta la durata del procedimento e per tutti i gradi di giudizio e con questo tipo di permesso gli ha consentito lavorare. Anzi l'avere un rapporto di lavoro in corso può essere valutato anche dal giudice nell'ambito del procedimento appunto che ha ad oggetto il diniego da parte della commissione. Quindi quello che il datore di lavoro dovrà fare è come sempre verificare che ci sia questo rinnovo del permesso di soggiorno ma non dovrà preoccuparsi appunto di interrompere il rapporto di lavoro almeno fino a che il giudizio è in corso e quindi poi all'esito del giudizio ovviamente se il giudice avrà dato ragione allo straniero torniamo diciamo alla medesima posizione in cui è uno straniero che si vede accolta la sua domanda dalla commissione se invece a quel punto c'è un rigetto definitivo beh lo straniero ovviamente dovrà o tornare al suo paese o a quel punto sarà un irregolare sul territorio salvo che non possa regolarizzare la sua posizione in altro modo ad esempio con una sanatoria o con altra modalità. Un documento particolare è il permesso per soggiornanti di lungo periodo quella che veniva definita come carta di soggiorno. Questo tipo di permesso può essere rilasciato allo straniero che è titolare da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno che sia ovviamente in corso di validità. Deve avere una disponibilità di un reddito che non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. L'assegno sociale viene determinato ogni anno dall'Inps per il 2021 ad esempio è di 460,28 euro per 13 mensilità. Deve superare un test di lingua italiana o deve essere in possesso comunque di una certificazione o di un titolo che ne attesti la conoscenza. Se è in possesso appunto di queste caratteristiche, di questi requisiti può ottenere questo tipo di permesso che ha delle innegabili vantaggi per lo straniero perché è a tempo indeterminato, che può essere aggiornato dopo cinque anni dal rilascio, dal rinnovo. Se ci sono delle modifiche per esempio un cambio di residenza, un cambio di dati nel passaporto, una modifica nello stato civile dello straniero, però questo è solo un aggiornamento, non è appunto un vero e proprio rinnovo e può essere revocato solo in caso di espulsione, di assenza dal territorio dell'Unione Europea per più di 12 mesi consecutivi oppure di rilascio di un analogo documento da parte di un altro stato dell'Unione Europea. Questo tipo di permesso di soggiorno consente appunto di entrare in Italia senza visto, di svolgere qualunque tipo di attività lavorativa esattamente come il permesso, diciamo i vari tipi di permesso che abbiamo visto prima, salvo le limitazioni di orario, per esempio come dicevo rispetto al permesso per motivi di studio, per esempio, consente anche di accedere a tutta una serie di prestazioni in materia sanitaria scolastica e anche di alloggi, per esempio, popolari e quindi di benefici previdenziali al pari dei cittadini italiani e non è in questo caso soggetto allo straniero di espulsione, salvo perché per gravi motivi di sicurezza nazionale. Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, significa che il datore di lavoro ha, diciamo, come documento un permesso che è privo di scadenza, salvo appunto, come dicevo, l'aggiornamento ogni 5 anni e la revoca e quindi non dovrà chiedere il rinnovo una volta che scade il permesso di soggiorno.